E' del tutto inaccettabile e addirittura criminale che le persone che sono state presenti a mie cene con numerosi invitati siano marchiate a vita come escort. Capodanno 2009, festa a Villa Certosa, sono presenti le minorenni Noemi Letizia e Roberta Oronzo. Oltre due anni dopo, il 12 febbraio 2011, il giornale di Sallusti pubblica in esclusiva gli scatti di quel party e il direttore scrive Nessuna foto hard, si sono costruite leggende metropolitane, sono solo serate conviviali. Intercettazione primo gennaio 2009, Berlusconi è al telefono con Tarantini, parlano di quella stessa nottata. Ieri avevo la fila fuori dalla porta della camera, erano in 11, io me ne sono fatte solo 8 perché non potevo fare di più. Che cosa ci tocca fare la notte del primo dell'anno? Senti, io ho qua tutti i letti occupati, queste non vanno via neanche con le cannonate, il prezzo è buono, il Vito ha anche. Ma quante ragazze ci sono? 40, intanto ho comprato una casa qui vicino per ampliare i posti, 12 posti in più. Intercettazione 8 novembre 2008, Tarantini al telefono con l'amico Pierluigi Faraone, detto Peter. Trovo una troia per favore, io alle due sto salendo in aereo, non posso più chiamare, però trova qualche altra femmina. In un'altra conversazione Faraone dice. È un rincoglionito, adesso basta, stasera io filmo tutto e lo do alla rete 3, guarda che vado con i filmati da Santoro. Intercettazione 6 settembre 2008, Vanessa Di Meglio racconta a Tarantini. Io non ho detto niente stamattina andando via, ha detto, ah metti questo in borsa, e io ho detto, no guarda non ti preoccupare, non ti sentire obbligato a, no mi fa piacere. Intercettazione 17 ottobre 2008, tra Berlusconi e Tarantini. Guarda che hanno tutto per pagarsi da sole, sono foraggiatissime. Lettera al foglio, 17 settembre 2011. Mi dispiace anche dei falsi pettegolezzi che sono stati creati, grazie ai soliti brugliacci telefonici sulla signora Manuela Arcuri, che è stata invece mia ospite inappuntabile in Sardegna e a Palazzo Grazioli. Intercettazione 10 febbraio 2009. Francesca Lana, al telefono con Tarantini, parla di un possibile rapporto a tre con Berlusconi e la Arcuri. In cambio l'attrice dovrebbe condurre il festival di Sanremo. Manuela dice che se non vede sto cammello, fino a quando non ho una certezza che quello che voglio accada non faccio niente per lui. Io le ho detto, Manuela forse dovrebbe essere il contrario, prima fai qualcosa per lui. Intercettazione 18 febbraio 2009. Berlusconi parla con Tarantini. Dice di essere indignato dalla volgarità di Manuela Arcuri, intervistata dal trio Medusa per le Iene. Meno male che non è stata qui, perché se no mi sarei sentito imbarazzato di essere andato con una troia così. Vabbè, cancellata. Eh vabbè. Memoriale di Silvio Berlusconi, IPM di Napoli, 12 settembre 2011. Ho conosciuto il signor Tarantini e sua moglie alcuni anni or sono. Mi è stato presentato come imprenditore di successo e da più parti ho avuto su di lui positive indicazioni. Intercettazione 10 ottobre 2008. Berlusconi al telefono con Tarantini. Vedi, Giampaolo, ora al massimo dovremmo averne due a testa, perché ora voglio che anche tu abbia le tue, se no mi sento sempre in debito. Tu porta per te e io porto le mie. Poi ce le prestiamo. Insomma, l'apatonza deve girare. E infatti IPM di Bari scrivono Tarantini, promotore e organizzatore di un'associazione relativa al reclutamento di donne, al fine di far loro esercitare la prostituzione con Silvio Berlusconi. Lettera al foglio, 17 settembre 2011. Conosco la Vitola da parecchi anni, in particolare per la sua attività di giornalista e di direttore di giornale. Ma nelle telefonate i rapporti tra i due sembrano molto più stretti. A metà ottobre 2009 la Vitola suggerisce al Premier la nomina alle fiamme gialle di un generale amico, raccomandato per diventare il numero due della Guardia di Finanza. Presidente, si ricorda la faccenda di cui le venni a parlare, la faccenda del generale? Non per fare il numero uno, per fare una mediazione e lui il numero due. La mediazione la sta facendo il Ministro ed è quasi fatta. Lei mi autorizzò a parlargliene. Allora lo devo chiamare? Gli fissiamo un appuntamento? Allora lui si chiama? Spaziante? Il GIP di Napoli che ordina il suo arresto, Amelia Primavera, scrive di speciale vicinanza di la Vitola col Premier, non giustificata da incarichi politici o istituzionali. Intercettazione 24 agosto 2011. Sì, pronto? Dottore, senta, sto in Bulgaria, sto a Sofia con un telefono di qua, se intercettano pure questi, eh, che ne so. Certo, hai visto che avevo ragione io, dimmi. Senta, dottore, ah vabbè, io mo sto fuori a sto punto. E resta lì e vediamo un po'. Intercettazione luglio 2011. La Vitola dice a Tarantini. Più merda c'è, meglio è. Memoriale consegnato ai PM di Napoli, 12 settembre 2011. Dopo il suo arresto, Tarantini e la moglie mi scrissero delle accorate lettere. Mi fecero sapere di essere in gravissime difficoltà economiche, chiedendomi aiuto per finanziare la loro azienda e per evitare il fallimento. Feci quindi avere al Tarantini e alla moglie del denaro consegnandolo direttamente alla Vitola o facendolo consegnare dalla mia segreteria. Intercettazione tra Tarantini e la Vitola, Primavera 2011. Lo dobbiamo tenere sulla corda, metterlo in ginocchio. Intercettazione 14 luglio 2011. Tarantini parla con la moglie Nicola. Quando lui si sputtanerà, io gli andrò addosso. Lo dovrò mettere con le spalle al muro. Noi non abbiamo più niente da perdere. Lui invece ha da perdere questo e quell'altro. Hai capito? Gli compra le case, le sistema, gli trova lavoro a quattro mignotte. Lui si è fatto arrivare a casa minorenni. Vogliamo parlarne? E adesso il problema era Giampaolo. Interrogatorio di Marinella Brambilla, segretaria storica di Berlusconi. 2 settembre 2011. Il Presidente è una persona molto generosa con chi è bisognoso. Tuttavia non mi è mai capitato che qualcuno chiedesse soldi con le modalità della vitola. L'episodio che lo ha riguardato lo definirei davvero unico. I soldi, nel gergo di la vitola, sono foto. La segretaria Marinella, al telefono con lo stesso la vitola, chiede chi possa andare a ritirarli. Intercettazione 23 giugno 2011. Allora, riusciamo a stampare 10 foto? Mandami... Chi mi mandi? Il solito guannino? Lì? Il tuo? Lettera al foglio, 17 settembre 2011. Ho cercato di fare il mio dovere e di rionificare il Paese, come con il discorso di ONN, il 25 aprile. Ho ammonito tutti, nel gennaio di quest'anno, sulla necessità di arrivare alla primavera estate, mentre nuove regole e parametri incombevano sul sistema finanziario europeo e mondiale con la più grande frustata della storia al cavallo dell'economia. Intercettazione 26 novembre 2008. Berlusconi è al telefono con Maristel Polanco. Vedi, Maristel, io voglio passare le giornate con le mie bambine. Io faccio il primo ministro a tempo perso. Intercettazione 23 settembre 2008. Al telefono con Tarantini. Presidente, Francesca mi chiedeva se poteva portare due amiche molto carine. Molto? Carine, mi ha detto. Penso di sì. Noi siamo messi così come uomini. Tu, io, poi Carlo Rossella, presidente di Medusa, e Fabrizio Del Noce, direttore di Rai 1, responsabile di tutta la Fiction Rai. Sono persone che possono far lavorare chi vogliono. Quindi, le ragazze hanno idea di essere di fronte a uomini che possono decidere del loro destino. Perfetto, allora gli dico di sì. Io ho poi due bambine piccole, che è tanto che non vedo. Una fa la giornalista in Rai, in Mediaset, lo sport, e una napoletana molto simpatica, molto dolce. E un'altra bambina di 21 anni, brasiliana, che mi ha pianto al telefono. Lettera al foglio, 17 settembre 2011. C'è ancora, in quest'Italia che amo, e che è stata divisa da una partigeneria senza principi, un'opinione pubblica, un insieme di persone e di gruppi leali allo spirito repubblicano. Intercettazione, 13 luglio 2011. Berlusconi al telefono con la Vitola. Tra qualche mese me ne vado. Vado via da questo paese di merda, di cui sono nauseato. Punto e basta. Grazie mille.